Barbara è una corsa che tu conosci molto bene e anche oggi è arrivata una splendida vittoria Sì dai, per fortuna che anche il tempo oggi è stato di buono spigio perché avevano messo brutto tempo però per fortuna che è finito con una bella giornata La corsa è iniziata abbastanza nervosa e subito sulla prima salita c'è stata la selezione e sono riuscita a rimanere con un bel gruppo e fino alla fine siamo rimasti tutti insieme e alla fine però le gambe hanno ceduto un po' però ho tenuto duro e ho finito per vincere questa bella gara Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!